Vertice in questura per il Jova Beach a Lucca, riunione di Forze dell'Ordine e della Protezione Civile in vista dell'evento che porterà a Viareggio il 2-3 settembre oltre 80.000 persone. Lo strano colore rosso delle acque del rio Guappero, l'Agenzia regionale per l'Ambiente ha effettuato un campionamento del Fosso alle Porte di Lucca scoprendo che il fenomeno non è pericoloso ed è legato al proliferare di un'alga. Tre serate nel ricordo di Francesco Tontini a Borgo a Mozzano, un evento sportivo in memoria del giovane volontario prematuramente scomparso in un incidente stradale, centinaia ragazzi arrivati da tutta Italia. Seravezza-Sciola, il Festival del Go, la squadra di Vangioni supera nettamente 5-3 il Real Forte nel derby di Coppa Italia, unica sfida stagionale tra le due versilesi e domenica prossima è già campionato. Michelini decimo ma senza l'ode, il piazzamento al 1000 Miglia non rispecchia il reale valore del pilote e della sua Polo Volkswagen, pagato a caro prezzo da Rudy la scelta sbagliata delle gomme. Cordiale saluto e ben ritrovati per questa edizione del nostro telegiornale che dunque apriamo con questo tavolo tecnico, così possiamo definirlo per la sicurezza che si è tenuto a Lucca in vista dell'attesissimo Giova Beach Party del prossimo 2 e 3 settembre. Il Giova Beach Party in programma sulla spiaggia del muraglione a Viareggio il 3 e 4 settembre è entrato nella fase operativa. Si è svolto infatti il tavolo tecnico convocato dal questore che ha visto riuniti all'interno nella caserma Mussi di Borgo Giannotti a Lucca tutti i soggetti interessati alle questioni relative alla logistica e alla sicurezza dell'evento. Una prima riunione tecnica che ha avuto lo scopo di stilare il piano per la sicurezza, come richiesto dalla prefettura nei mesi scorsi e così come avviene per ogni grande evento del territorio, dai comics al Summer Festival. Ma intanto è la definizione, il tavolo tecnico di una serie di misure e di precauzioni già da tempo definite e richieste nei vari comitati provinciali per l'ordine della sicurezza pubblica che già dal mese di luglio si sono tenuti in prefettura. Qui andiamo a definire i lineamenti definitivi per poi arrivare all'ordinanza che verrà emessa in prossimità dell'evento. Sta emergendo un sistema organizzativo sicuramente efficiente anche a fronte delle richieste che i vari enti sempre in funzione di quella safety e security che sono per noi i parametri fondamentali per garantire a tutti coloro, non soltanto coloro che parteciperanno ai concerti ma anche a tutti i cittadini di Viareggio, di vivere queste due giornate nella massima sicurezza. Nella stesura del piano il canovaccio seguito sarà quello del piano già adottato nell'edizione 2019 che si svolse senza nessun problema di ordine pubblico. Credo che l'esperienza del 2019 sia stata un'esperienza virtuosa quindi in linea di massima stiamo seguendo quel canovaccio, stiamo seguendo quel sistema, quell'impianto di sicurezza che ci lascia stare sufficientemente, ci faccia essere sufficientemente sereni. Ed ora la strana vicenda del rio Guappero. Siamo alle porte di Lucca, a questo rio che si è colorato di rosso. Nei giorni scorsi il rio Guappero che scorre tra Santa Maria del Giudice e Lucca ha assunto una colorazione rossastra a causa di un'abbondante fioritura di microalghe formatasi per cause naturali e non per effetto di un inquinamento chimico. Lo spiega l'ARPAT che ha svolto un sopralluogo e un campionamento dell'acqua senza rilevare odori riconducibili allo sversamento di idrocarburi e senza osservare pesci in situazione di sofferenza, anzi spiegando di aver avvistato avanotti in buone condizioni e nutrie che nuotavano. I risultati degli esami chimici hanno indicato una sovrassaturazione dell'ossigeno disciolto, elemento che caratterizza le situazioni ad elevata fioritura algale. Il campione prelevato è composto da una porzione rossa in sospensione, costituita da massi di oglena sanguinea tenuta insieme da materiale mucoso ed una porzione liquida costituita soprattutto da clorofice. Un mix, spiega l'ARPAT, che non produce tossine ma è responsabile della colorazione giallo-verde della porzione liquida, mentre la oglena sanguinea può produrre invece un alcaloide. Per l'Agenzia regionale dell'Ambiente le piogge cadute nei giorni precedenti al fenomeno di colorazione rossastra hanno riversato nei fossi quantità di nutrienti che insieme alle elevate temperature hanno generato le condizioni ideali per le fioriture algali. E non ci sono buone notizie purtroppo neppure per quanto riguarda la produzione del miele in questo 2022. Produzione di miele quasi dimezzata in provincia di Lucca per effetto del clima pazzo con le api allo stremo costretta ad allungare i voli per trovare un po' di nutrimento, ma nonostante questo in ripresa rispetto al 2021 che aveva fatto registrare numeri disastrosi. È quanto emerge dal primo bilancio di coldiretti sul miele made in Tuscany nel 2022 che stima una riduzione media della produzione fra il 30 e il 40% in miglioramento, come detto, rispetto allo scorso anno condizionato dalla gelata di maggio. Un quadro sul quale hanno pesato in modo particolare le alte temperature e la siccità estrema che ha investito il 90% del territorio, con fioriture anticipate che hanno costretto gli apicoltori a partire prima verso le aree montane e a portare razioni di soccorso negli alveiari. Ma oltre alla spallata del clima, i pastori delle api devono far fronte anche all'esplosione dei costi per le tensioni internazionali generate dalla guerra in Ucraina. Confezionare un vasetto di miele costerà mediamente tra il 20 e il 30% in più ai 995 picoltori della provincia di Lucca che gestiscono oltre 2.160 apiari. Quest'anno la lascia è andata abbastanza bene, rispetto alla scuola che non abbiamo fatto niente, il mio figlio è uguale, la sulla abbastanza bene e l'unico castagno che è troppo caldo ha reso meno. E poi c'è il problema che aumenta tutto, anche i vasi, se stanno per lì, non si trovavano, sono aumentati e si aumentano anche indietro. I dati della pandemia ve li proponiamo come sempre con l'ausilio della nostra tabella grafica. Nelle ultime 24 ore sensibile calo in virtù anche della giornata festiva, nuovi contagiati 276, tasso di positività più o meno invariato al 12,9%, calano i ricoverati 286, meno 18. C'è un lieve aumento delle terapie intensive che tornano a 10 più 4 i decessi, non si registrano, questa è una bellissima notizia, decessi né in Toscana né tantomeno in provincia di Lucca dove ci sono 27 nuovi contagiati, 22 nella piana, 1 in Valle del Serchio, 4 in Versilia. Ci spostiamo appunto in Versilia, Pietrasanta, 9 tigli di viale apua saranno abbattuti. Dopo la tempesta di vento e pioggia di due settimane fa, saranno rimossi fra mercoledì e giovedì i primi tigli lungo viale apua a Pietrasanta. Le alberi destinate alla rimozione, 9 in totale, fanno parte dei 42 presenti sul viale che erano già sotto osservazione dell'ufficio, controllati e censiti diversi giorni prima del fortunale dall'agronomo incaricato per monitorarne lo stato di salute. Per 10 di questi 42 alberi, spiega l'assessore Tatiana Agliori, le verifiche si erano concluse con un esito di estrema propensione al cedimento, evento che si è concretizzato per uno di questi tigli nelle ore del fortunale, è stata quindi decisa la rimozione degli altri 9. Mercoledì e giovedì si lavorerà sui primi 7, tutti nel lato sud di viale apua. Per effettuare l'intervento, il comando di Polizia Municipale ha disposto, nei due giorni indicati, dalle 7 alle 18, il divieto di transito, eccetto residenti, nel tratto di viale apua e del percorso ciclopedonale adiacente, compreso tra la via Aurelia e via Primo Maggio, con deviazione del traffico sulla stessa via. Non appena il clima sarà favorevole, conclude gli ori, le alberi rimossi saranno sostituiti, con altrettanti della stessa specie, secondo le disposizioni del vincolo paesaggistico che tutela il viale. Ancora pochi giorni per visitare la mostra di Pablo Acciugarri in centro storico a Lucca. Marmi che sembrano librarsi verso il cielo, bronzi e anche opere e lignee che dialogano con la tradizione culturale, storica e artistica della Toscana, di origini preromane, sarà ancora visitabile a Lucca fino al 4 settembre, parte della mostra diffusa dell'artista uruguaiano Pablo Acciugarri, che conta 45 grandi sculture monumentali intitolata Il risveglio della natura, mentre l'allestimento in esterno proseguirà fino al 30 settembre. Ci sono ancora pochi giorni quindi per visitare le esposizioni in tutto 10 opere e linee, collocate nella Chiesa dei Servi e le spettacolari opere in marmo bianco di Carrara, nero del Belgio e rosa del Portogallo, ospitate al Palazzo delle Esposizioni, insieme ad alcuni bronzi. Mentre rimarranno esposte per tutto il mese le opere collocate all'aperto, come le cinque sculture poste nei principali luoghi di interesse del centro storico. Andiamo in Garfagnana, successo per la triennale di Cardoso dedicata alla Madonna addolorata. È ritornata nella sua versione solenne la festa della triennale di Cardoso dedicata alla Madonna addolorata e che coincide anche con il periodo legato ai festeggiamenti di San Ginese, santo patrono del paese. Al mattino si è svolta la messa solenne celebrata dall'arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, che di fatto ha aperto i festeggiamenti della triennale. Per me è la prima volta, quindi lo faccio con molta aspettativa, anche molta curiosità. Certamente le feste sono un'occasione perché il paese si ritrovi, torni la gente da fuori, quindi è un momento direi di coesione ecclesiale ma anche sociale, quindi è una cosa molto importante ed è essenziale che non venga meno. Nel pomeriggio c'è stato anche lo spettacolo degli sbandieratori e musici di Gallicano che hanno animato le caratteristiche piazzette di Cardoso. Il momento più sentito e partecipato è stato senza dubbio poi quello della processione che raggiunge tutti i luoghi del paese. Il corteo religioso, animato anche dalla filarmonica di Coreglia, si è mosso dal piazzale della chiesa parrocchiale fino a raggiungere la parte più bassa del paese, al Colle, dove la processione si è fermata per la preghiera guidata da Don Marcello Franceschi. La triennale di Cardoso non è solo una festa religiosa ma anche un'occasione di condivisione e incontro, soprattutto con i tanti cardosini di ritorno. È una festa che unisce tradizione, religiosità, unisce le persone che vivono all'estero e che ritornano sempre in Italia, con i figli, con i nipoti, insomma è una cosa che viaggia nel tempo e ci fa stare bene tutti. I più giovani, e come ti dicevo prima, non sono tutti abitanti di Cardoso, anche delle zone vicine che lo fanno con piacere e ogni anno si offrono volentieri per questa tradizione che ormai portiamo avanti da centinaia d'anni, e non voglio esagerare ma insomma da un bel po'. Una bella manifestazione, tre serate a Borgo Ammozzano nel ricordo di Francesco Tontini. Tre giorni di ginnastica, ritmica, di bravura, armonia e bellezza al Palasport di Borgo Ammozzano, 250 atlete da tutta Italia, hanno preso parte alla prima edizione del Memorial Francesco Tontini organizzato dall'Associazione Sportiva Albacchiara. Manifestazione vissuta nel ricordo del giovane di Fornaci di Varga, Francesco Tontini, prematuramente scomparso in un incidente stradale. Francesco era fratello di Alissa, tesserata con Albacchiara, che si esibita non senza suscitare momenti di profonda commozione da parte della famiglia e di tutti i presenti al Palasport. Siamo veramente, veramente molto contenti. Per noi Francesco era uno di famiglia perché da tanti anni accompagnava Alissa, sua sorella, che è una ginnasta del nostro settore agonistico di alto livello, gli allenamenti. Più di 30 le società provenienti da tutta Italia, alcune delle quali impegnate nella massima serie. Tante le categorie in lizza, dall'allievi alle senior, passando per le juniores, in una importante vetrina di sport, ma anche un magnifico veicolo promozionale per tutta la zona. Quest'anno abbiamo disputato il campionato di serie B, siamo arrivati al terzo posto e abbiamo ottenuto la promozione in serie A2 per il 2023, quindi è stato un anno veramente per noi ricco di soddisfazioni. Per la cronaca, anche se stavolta il risultato sportivo è forse meno preminente rispetto ad altre occasioni, la vittoria è andata proprio ad Alba Chiara. La società di casa, profeta in patria, la somma dei punteggi ottenuti nelle varie prove, ha consentito alla squadra borbigiana di ottenere una bella e meritata vittoria. Naturalmente, appuntamento alla seconda edizione è al 2023. È tutto per quanto riguarda la prima parte del TGNO, io mi fermo qui, adesso continuate a seguirci per una serie di suggerimenti commerciali.